Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Qua la Zampa. Questa sera vorrei darvi qualche consiglio su come occuparsi delle piccole ferite o escoriazioni che possono capitare ai vostri animali domestici. Innanzitutto se avete qualunque dubbio che una ferita possa essere grave o può essere pericolosa, rivolgetevi a un veterinario, cercate un ambulatorio aperto e portate subito il vostro animale domestico da un veterinario, ma se si tratta di una piccola escoriazione o qualcosa che pensate non sia necessariamente grave potete intervenire. Innanzitutto dovete procurarvi un aiuto, una persona che vi aiuta a contenere l'animale, procuratevi poi dei guanti lattice, un rasoio di quelli monouso, del disinfettante, dell'acqua ossigenata, delle garze, questo è quello che potrebbe servirvi. Innanzitutto potete prendere il rasoio monouso, quelli di plastica, e rimuovere il coprilama, c'è una piccola parte frontale che può essere tagliata con una forbice in modo che possa radere molto bene il pelo dell'animale intorno alla piccola escoriazione. Fate molta attenzione, usate un po' di disinfettante e se la ferita è sporca, se l'animale è un po' impolverato, c'è della terra o avete qualunque sospetto che ci sia della sporcizia potete usare l'acqua ossigenata. Questo è sicuramente un ottimo disinfettante che rimuoverà anche lo sporco. Un altro buon disinfettante è una base di iodio, il più conosciuto è betadine, è uno di quei disinfettanti rossi che penetrano molto bene all'interno della pelle e lì con l'aiuto di una garza potete inumidire e disinfettare con questo tipo di disinfettante. Esistono poi degli spray disinfettanti o anche delle polveri cicatrizzanti anche ad uso umano. Queste sicuramente sono molto utili per asciugare la ferita per fare in modo che si cicatrizzi molto più velocemente. Qualunque dubbio chiedete, rivolgetevi a un veterinario e la cosa da cui dovete fare attenzione è che spesso l'animale si lecca o tende a mordersi una ferita. Se succede questo impedirà la guarigione e l'asciugatura della ferita per cui dovete procurarvi un collare, cosiddetto collare elisabettiano. Non è altro che una fascia di plastica bianca che impedirà al cane di girare la testa fino a raggiungere la propria ferita. Bene, per questa sera è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di qua alla Zampa. Arrivederci!